Problemi d'udito, affidati a Punto Acustico, ti saprà aiutare, troverai le migliori protesi acustiche, sentire bene ti migliora la vita, ricorda Punto Acustico, a Bassano del Grappa. Cimatti, Gera e commercianti, impossibile un baratto, ZTL, parcheggi gratis. Martedì le schede sanitarie, 3 a Bassano, 2 ad Asiago, sono i departi a rischio. Don Renato, sacerdote da 50 anni, per festeggiarlo si sistema la chiesa di San Francesco. La Lega di Bassano porta il referendum per l'autodeterminazione della Veneto in Consiglio Comunale. Ultimo giorno di scuola tra feste, esercitazioni e solidarietà. Benvenuti in Bassano Notizie, il giornale si apre con i tevi cittadini e con la proposta dei commercianti, lanciata ieri sera dal nostro TG. Se arriva la ZTL, ci diano i parcheggi gratis, una proposta bocciata dal sindaco. Il fatto del parcheggio gratis credo che non sia facilmente praticabile. Abbiamo fatto qualche esperimento, a parte il fatto anche dell'incassi. E poi io voglio ricordare che in tutta la ZTL ci sono 8 posti auto, 8. E che dopo le 7 e mezza di sera ci sono le strisce blu gratis di Piazzale Trento, le strisce blu gratis di Via Berci, le strisce blu gratis di Piazzate Raglio. Nessun baratto tra ZTL notturne e parcheggi gratuiti. Dopo aver ceduto sull'orario dello stop serale alle auto, partirà solo alle 20 e 30, il sindaco Cimatti esclude la possibilità di compensazioni, come chiesto dai commercianti. Altro discorso invece è pensare a soste gratis nelle aree a pagamento per favorire l'afflusso in centro la domenica e in altre particolari occasioni. Il problema qui è di fondi. Adesso c'è anche l'imposta di soggiorno, ci sono delle altre possibili alternative. Io sono pronto a discutere con i commercianti la possibilità, ma non legandola alla ZTL, perché non ha nessun senso legare questa apertura alla ZTL. Verranno rese note in martedì le schede sanitarie. Per quanto riguarda gli ospedali di Bassano e Asiago, secondo le indiscrezioni, sono tre i reparti a rischio ridimensionamento. L'attesa è tutta per martedì. Quel giorno la giunta regionale renderà note le nuove schede sanitarie e si conosceranno il futuro dell'ospedale di Bassano e di Asiago. Per ora le indiscrezioni sono tutt'altro che positive. Secondo quanto riferisce nell'edizione odierna il Gazzettino, sono tre i reparti a rischio per l'ospedale cittadino, chirurgia vascolare, laboratorio analisi e anatomia patologica. I tre reparti rimarrebbero orfri del primariato diventando strutture semplici. L'obiettivo della regione, manco a dirlo in quest'epoca di tagli, sarebbe quello di risparmiare facendo convergere molte specialità verso l'ospedale unico dell'Alto Vicentino a Sant'Urso. Non va meglio per Asiago. Anche qui le indiscrezioni parlano di tagli mettendo a rischio chirurgia generale e ginecologia. Martedì, come detto, durante il consueto punto stampa post giunta, Zaia ufficializzerà il futuro della sanità veneta, ma solo poche ore fa il governatore è tornato a definire spazzatura le indiscrezioni giornalistiche. Abbiamo un progetto per la cura e la salute dei veneti, non un piano ispirato esclusivamente a una miope logica del risparmio, ha aggiunto. Stiamo puntando sulla specializzazione e sulla prevenzione, ha chiuso Zaia, nella consapevolezza che non è l'ospedale con più posti letto, quello necessariamente più bello ed efficiente. La cronaca brutta avventura per un 41enne di Romano Dezzelino. L'uomo stamattina era in un'escursione sul canale Open del Bellunese, si è ferito a 200 metri sopra, aveva un amico che non riusciva ad aiutarlo. Siamo a 2.500 metri di quota, l'elicottero del suo Emma di Pieve di Cadore lo ha individuato in un affossamento largo pochi metri, è stato un tecnico del soccorso alpino a calarsi con un verricello, lo ha assicurato, recuperato, la preoccupazione era che altre persone potessero fare precipitare neve e sassi. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cortina con una sospetta frattura del braccio. 50 anni di sacerdotizio per Don Renato Tomasi, la bacchia della nostra città. Per festeggiarlo si è pensato a una singolare iniziativa che ci racconta l'Aula Campagnolo. In occasione dei 50 anni di organizzazione sacerdotale di Monsignor Renato Tomasi verrà questa sera presentato ufficialmente il progetto di riqualificazione della Chiesa di San Francesco che prevede tre principali interventi negli arredi sacri. Per noi, per la nostra comunità ma anche per la città di Bassano un'occasione bella per stringerci attorno a quello che è il nostro pastore, la nostra guida. Quali saranno i tre elementi protagonisti di questo recupero? Allora, gli elementi saranno innanzitutto l'ambone che vediamo qui alla mia destra, l'ambone che sappiamo nella liturgia essere segno del sepolcro vuoto. Il secondo elemento sarà l'altare, l'altare che vediamo, l'altare che rappresenta Gesù stesso che si offre per noi. Su questo altare verrà rappresentato l'albero della vita. Il terzo e ultimo elemento sarà la sede che è praticamente il luogo da cui il pastore presiede alla preghiera della comunità. In questa sede verrà rappresentata la rete, la rete del pescatore. Per noi speriamo che questo progetto venga realizzato nel tempo dell'estate in modo che per il prossimo autunno si possa venire a pregare. La Lega di Bassano porta in consiglio il tema dell'autodeterminazione della Regione. Anche a Bassano, come in tutti i comuni del Veneto, il tema dell'indipendenza arriva in Consiglio Comunale. La Lega Nord presenta, in occasione della seduta del 20 giugno, un ordine del giorno in cui si chiede alla Regione di attivarsi con ogni risorsa a disposizione per avviare urgentemente con tutte le istituzioni dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite le relazioni utili a indire una consultazione referendaria. Lo scopo è accertare la volontà del popolo veneto di autodeterminarsi. Vediamo ai nostri confini paesi che intendono staccarsi dal Veneto per andare in Trentino, dove tutti sappiamo qual è la differenza economica di trattamento rispetto ai nostri comuni. Siamo vessati veramente dai trasferimenti statali, diamo molto di più allo Stato di quanto riceviamo. Noi tentiamo di sollecitare in maniera forte la Regione, ripeto, per avere questo tipo di consultazione. Oggi è suonata la campanella più attesa dagli studenti, quella dell'ultimo giorno di scuola. Tante iniziative, ne abbiamo seguite due. Una a nove, l'altra a Solagna. Armati di berrettino, zainetto e spirito d'avventura quanto basta, oltre 400 alunni delle classi terze, quarte e quinte delle primarie di Nove, Cartigliano e Pozzo Leone hanno trascorso l'ultimo giorno di scuola nel Noasi Parco, Crosara di Nove, per assistere ad una serie di esercitazioni pratiche organizzate dai volontari della protezione civile di Nove, assieme a Croce Rossa Italiana di Bassano, Carabinieri della Stazione di Nove, Associazione Nazionale Carabinieri Cinofili, Soccorso Fluviale, Polizia Locale di Marostica, Corpo Forestale dello Stato e Associazione Italiana Soccorritori di Marostica. Fra i momenti più coinvolgenti della giornata, la simulazione di un incidente stradale fra due auto e il tempestivo intervento dei soccorsi. Bene, mi sono divertita molto e ho fatto in molti laboratori. Ho imparato che non bisogna lasciare un fuoco acceso quando sei in una foresta, che non bisogna lasciare il fuoco acceso in casa, nelle pentole, perché sennò si rischia di prenda fuoco la casa. E sin da piccoli noi crediamo che, coltivandoli, però avere un senso civico nell'aiutare gli altri, nel sacrificio, nel mettersi a servizio degli altri. Montare e smontare una tenda, preparare le brande, registrare gli arrivi, più in generale gestirsi nelle emergenze, sono gli insegnamenti che lasceranno agli alunni delle medie di Solagna gli ultimi due giorni di scuola. Al posto della campanella è suonata la sirena, aule evacuate simulando un terremoto e studenti sfollati nella zona degli impianti sportivi. Qui, sotto la guida della protezione civile, i ragazzi hanno piantato il campo dove trascorre la notte all'aperto. Com'è? Facile o difficile? Beh, né tanto difficile né tanto facile. Facile perché, cioè, bisogna solo gonfiarla. È difficile perché bisogna mettersi anche questi paletti. Sindaco, dà una mano anche lei? No, no, perché sarei solo d'intralcio. No, ci sono veramente i professionisti, quindi lasciamo lavorare i professionisti. Ci serve per capire quante cose ci servono, quanta acqua va consumata, tutto quello che serve per organizzare un campo mini per 30 persone, però che dopo può essere per 100 o 200, dipende da quanto siamo. Sono stati invece gli alpini della sezione Montegrappa a rendere speciale l'ultimo giorno di scuola per gli allievi delle elementari a stroppari di tezze. La sezione locale delle penne nere ha messo in scena la maina bandiera che era stata consegnata a inizio anno e ha installato una tenda militare con la presenza di un mulo per insegnare qualcosa alle nuove generazioni. Gli alpini domani saranno invece impegnati nella 23esima festa comunale del donatore. Il ritrovo è alle 9.45 da via Iolanda. Altri ragazzi, stavolta un po' più grandi, quelle del liceo Brocchi, che per solidarietà hanno dato vita a un mercatino del libro usato. Dai libri di testo alle antologie scolastiche, passando per i romanzi introvabili della letteratura italiana e straniera. Alla fiera del libro usato al liceo Brocchi di Bassano non sono mancate ghiotte occasioni anche per gli appassionati collezionisti di pagine ingiallite. Abbiamo avuto una partecipazione abbastanza numerosa. Nelle tre giornate sono venute sia persone che frequentano la scuola, quindi studenti e docenti, che persone esterne, che era quello che ci aspettavamo, che speravamo che succedesse. Una prima edizione, quella della fiera del libro usato, che ha portato non poche soddisfazioni ai ragazzi ideatori del progetto, nato per sostenere le spese per le attività scolastiche degli studenti che si trovano in difficoltà economiche. Il nostro intento era quello di, da una parte, finanziare l'assemblea di istituto, dando il 20% del ricavato totale ai rappresentanti di istituto dell'anno prossimo, mentre l'80% verrà messo nel fondo di solidarietà per gli studenti che parteciperanno alle gite, alle visite di istruzione e che non potranno permettersi di pagare la loro quota di partecipazione. Straordinaria occasione da Gatto Calzature. Solo a Marostica trovi tutto a metà prezzo. Gatto Calzature, da non perdere. Per la tua pubblicità, Publi Vicenza, divisione commerciale, videomedia SPA. Rieccoci in studio, la pagina sportiva con il calcio a 5, niente da fare per la Luparense, battuta ieri sera a Conegliano dalla Marca per 3 a 2. I trevigiani sono i nuovi campioni d'Italia, strappando lo scudetto proprio alla Luparense. Buone notizie, almeno dal volley femminile non ci sono rischi. Allarme rientrato, il progetto continua, ma facciamo un doveroso passo indietro. 20 giorni fa si diffonde una voce, ai vertici del volley Donne Bassano c'è Maretta, i capi non vanno d'accordo e il programma pluriennale sul futuro del club, con in cima coach Atanas Malinov, va amabilmente a farsi friggere. Panico tra gli sportivi che in queste settimane hanno dovuto incassare il ridimensionamento della pallavolo maschile, rischiando di dover rinunciare al basket d'alto livello, mentre il calcio è in pausa di riflessione. Invece in queste ore, meno male, la spia accesa si è per fortuna spenta. Le frizioni, se ci sono state, ora sono comunque assorbite e insomma la pianificazione procede esattamente come prima, tanto che proprio Mastro Malinov ha continuato il casting in palestra per selezionare le migliori giovani del territorio alla ricerca di nuovi prospetti. E naturalmente i pezzi pregiati rimangono tutti, mentre la squadra verrà potenziata opportunamente con talenti da svezzare, perché la linea verde è la priorità per la proprietà. Aspettando ripescaggie in B, che qui danno come molto probabile, in alternativa si rileverebbe un titolo di un'altra società pronta ad abdicare. Ma quello che conta è proseguire il piano di crescita, perché quello del Bruno Premi è un bellissimo fiore appena sbocciato. Guai se appassisse subito. Oggi nel pomeriggio il Parasport ha ospitato la prima edizione dell'Hot Wheel Stropy, un torneo di hockey riservato a giovanissimi under 10. Hanno preso parte i mini atleti di Bassano, Breganze, Follonica, Valdagno, Montecchio Precarcino e Tiene. Tanto l'entusiasmo e la partecipazione, tanto che gli organizzatori hanno già in calendario per l'anno prossimo la seconda edizione. E con questo è davvero tutto, grazie in sito tvavicenza.it per rivedere il TG. Noi se volete ci diamo appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Problemi d'udito Affidati a Punto Acustico Ti saprà aiutare Troverai le migliori protesi acustiche Sentire bene ti migliora la vita Ricorda Punto Acustico A Bassano del Grappa Filippi